E qui in questo episodio di Dinosauri facciamo la conoscenza di Pentaceratops 1 e Pentaceratops 2 Forza frate, andiamoci a cornate, si forza Wey, non vale, è parato Ma questo non è vero, ma che dici Tu sei solo un fannullone Io fannullone, io faccio vedere a te Fannullone, io ti faccio vedere a te No, io ti faccio vedere a te, capito? No, io No, io 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 Dai ragazzi, smettetele, sembrate quella gente che urla dei film horror, dai, diamoci una calmata Ma questo mi chiama fannullone Tu sei un fannullone Dai, diamoci una calmata, altrimenti chiudo l'episodio Avete capito? Dai che è quasi finito Oh, va bene Facciamo baci Ok Ok